buongiorno raga tutto bene la bella raga ciao ragazzi le cose che vorrei dirvi sarebbero tante ma visto il tempo ragazzi resistete e viva la garelli buongiorno ragazzi come va spero tutto bene vi voglio bene un grande saluto dalla vostra prof e viva la garelli ciao ragazzi tutto bene state studiando ma in ogni caso viva la garelli ciao ragazzi in attesa di vederci presto dedicate questo tempo allo studio a giocare a chiacchierare con i vostri amici tenetevi in forma e collaborate anche nei lavori di casa un abbraccio viva la garelli ciao ragazzi come state io bene mi auguro anche voi un grosso abbraccio a tutti e come sempre viva la garelli ciao ragazzi come state spero bene mi mancate speriamo di tornare presto a scuola e mi raccomando non ridete troppo dei miei video su youtube a presto ciao ragazzi buona vi saluto tutti quanti ad uno ad uno siete in tanti quindi non ce la faccio a dire tutti quanti i nomi mi stanno arrivando tanti bei compiti e attraverso le vostre grafie vi ricordo vi ricordo dei visi ricordo come vi muovete come ridete e mi mancate mi mancate tanto quindi adesso virtualmente mi avvicino mi avvicino e entro in tutte le mie classi passo nei corridoi e vi saluto tutti ciao garelli ciao ragazzi è un po di tempo che non ci vediamo ma vedo sempre i vostri lavori e vi ringrazio per il vostro impegno voglio ringraziare anche le vostre famiglie tutti insieme insegnanti famiglie e alunni siamo una grande squadra e la collaborazione tra noi è molto importante ringrazio dunque tutti quanti e vi saluto ciao a tutti ragazzi spero che voi e le vostre famiglie stiate bene non tutti mi conoscete in quanto insegno solo in alcune classi comunque sia la garelli è un'unica grande famiglia e quindi ci tengo a salutare tutti quanti e mi mancate dal primo all'ultimo essendo anche insegnante di scienze motorie mi raccomando in quarantena trovate tempo per fare un po di attività fisica ciao a tutti e viva la garelli ciao ragazzi resistete un saluto a tutti ciao ragazzi della garelli la vostra docente mi ha parlato dei vostri laboratori a scuola vi faccio i complimenti io mi chiamo rockfeller e arrivo da tempi molto lontani la vostra prof mi ha trovato in uno di quei mercatini dell'usato vecchio adesso vi saluto e vi faccio un abbraccio virtuale e un bacio come faccio io adesso a lei ciao ragazzi spero siate tutti bene un caro saluto a tutti voi e alle vostre famiglie ah dimenticavo viva la garelli andrà tutto bene ciao ragazzi anch'io voglio farvi un saluto anzi proviamo a cantare insieme ascoltate bene queste note viva la garelli ciao ehi ragazzi ciao a tutti un vecchio saggio diceva il segreto per vivere a lungo è mangiare la metà camminare il doppio ridere il triplo e amare senza misura quindi chiudete il frigo utilizzate a fare esercizio ridete tanto mi raccomando non sulle video lezioni dei vostri insegnanti e amate tutti quelli che vi stanno intorno un abbraccio e ci vediamo presto viva la garelli ciao ragazzi come state io sto facendo una piccola passeggiata tutto bene voi le vostre famiglie io vi auguro di stare bene soprattutto di essere sereni cercate di fare qualche compito di studiare seguite le indicazioni che vi stiamo dando e speriamo di rivederci presto a scuola ciao a tutti viva la garelli ciao a tutti i ragazzi della scuola garelli io mi coccolo il mio piccolo lacchino voi fate bravi studiate e spero di vederci presto ciao 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 ragazzi vi ricordate ancora di me? io sì e come vi penso molto soprattutto in questo periodo che non deve essere facile per tutti voi e spero che siate bene ma vi starete chiedendo la prof alla fine ha partorito? ancora no sto aspettando eccola qua e l'altra domanda era ma alla fine come lo chiama questo figlio? vediamo se qualcuno lo ha indovinato a presto ciao cari ragazzi tutti della garelli 2019-2020 in questo periodo siamo chiamati a volare sopra le nubi come dice lo scrittore Richard Buck siate saggi sereni e fiduciosi un salutone a tutti e un caro ricordo anche ai vostri genitori ciao ragazzi mando un saluto a voi e alle vostre famiglie spero stiate tutti bene ho già iniziato a ricevere le email con i vostri compiti continuate così state facendo un buon lavoro e spero di potervi rivedere presto un abbraccio a tutti ciao su col morale ragazzi torneranno i giorni belli viva la garelli ciao ragazzi spero che state tutti bene vi mando un forte abbraccio e mi raccomando restate a casa ci vediamo presto ragazzi buongiorno beh per una volta l'agonia non è nel corridoio a sgridarvi o a riprendervi regolier è solo qua per dirvi che spero che tutti voi stiate bene e mi raccomando mai come ora è importante che voi tutti rispettiate le regole state a casa mi raccomando ok ho pensato a voi per proporvi qualche lettura in francese simpatica carina leggera soprattutto una settimana dovrebbe bastarvi ma questa è quella che preferisco viva la garelli ciao ragazzi come state mi mancate tanto non vedo l'ora di rivedervi un abbraccio virtuale e viva la garelli buongiorno ragazzi come state vi manchiamo voi ci mancate parecchio quando torniamo a scuola ricordatevi di questi giorni periodo sicuramente non è di migliore ci sono tre regole da rispettare vi invitate a casa per cui potete lavatevi spesso le mani studiate 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 quello che ti apre a studiare divertite giocate la playstation fate quello che più vi piace quando fate state a casa e non dimenticatevi assolutamente una cosa viva la garelli grazie a tutti grazie a tutti